possiamo dirlo ce l'abbiamo fatta si ce l'abbiamo fatta anche se non abbiamo fatto una grandissima partita anzi tutt'altro però se arrivano i tre punti tre punti li abbiamo presi e adesso siamo salvi siamo a nove punti dalla quart'ultima per cui vediamo magari se riusciamo a guadagnare qualche posizione in classifica nelle prossime partite diceva non una bellissima partita noi abbiamo perso la voce al gol di annula lei magari già prima magari a fine primo tempo eh sì non abbiamo fatto bene non siamo stati reattivi non siamo stati aggressivi non facevamo girare la palla velocemente come come vorrei io e così abbiamo abbiamo favorito il bari che con tanta grinta e tanta voglia è riuscito a metterci in difficoltà riuscito a raggiungere il pareggio poi fortunatamente siamo riusciti a raddrizzarla nella concezione di quello che vorrebbe l'ongega di quello che vorrebbe il verona adesso la stagione non è finita no assolutamente martedì abbiamo la coppa italia ci piacerebbe passare il turno sappiamo che non è facile perché il tavagnac una buona squadra però siamo convinti comunque di potersela giocare alla pari sarebbe un bel traguardo riuscire quanto meno arrivare alle semifinali water game what your game physically a monster yeah today was really rough we had a lot of physical fights and i would say fouls as well and but yeah in the end the goals count and we did it today lei arrivata che va magari qualche problema fisico ha fatto fatica all'inizio però adesso adesso veramente un'altra giocatrice yes that's right to catch up for my lost ones and now i'm i'm coming back more stronger as before si sono arrivata ho provato a riprendere quei mesi che avevo perduto prima e quindi ho tentato cercato evidentemente sono riuscita a recuperare tanto a tornare la giocatrice che ero now verona è safe what are your emotions about this man i'm super happy and through least that we did it and now i'm looking for for the next match and can't wait for tuesday to get another round in the cup cup italia thank you florin ha detto che adesso chiaro sono salve sono super contenta di essere salve però adesso si punta e si si concentra sulla partita di martedì in colpa italia the best defensive couple of the world yes we are what a match si è stata una partita sofferta forse fin troppo perché eravamo superiori a loro e dovevamo chiuderla subito nel primo tempo perché le occasioni le abbiamo avute però defensivamente siamo state siamo state perfette secondo me tranne l'occasione del gol for you robin the most important thing was that we got three points i think it probably wasn't our best game but we worked hard they really only had one chance which was the goal and it's just kind of unlucky but otherwise i think we played defensively a very good game we created a lot of opportunities we just didn't finish them but we got three points and that's the most important vuoi tradurre te caterina valla pensiamo più meno lo stesso modo quindi che a parte il gol non hanno avuto tanto occasioni per segnare quindi difensivamente siamo state molto brave e che la cosa importante erano oggi i tre punti we are saved sì siamo salve è importante però non deve essere una fine ma un nuovo inizio per l'anno prossimo purtroppo siamo partite un po in ritardo rispetto alle altre squadre se da subito l'anno prossimo ricomincieremo con questa squadra avremo opportunità per far meglio chiaro finito che c'è l'italiano cup e c'è altri match e c'è l'anno prossimo che c'è l'anno prossimo che c'è l'anno prossimo no i mean it's important to to get three more points and it gives us a little bit of self confidence before tuesday when we have the cup it's a tight week so i mean we have a lot of games we also have a lot of injuries so i mean we just have to take everything we can get we have three points will do our best on tuesday and then after that's only two more games so we still have points to take si penso che alla fine comunque questi siano tre punti importanti anche in un'ottica psicologica anche nell'ottica di prepararsi al meglio per martedì per la coppa italia e poi chiaro dobbiamo affrontare una settimana difficile una settimana lunga piena di problemi fisici piena di infortuni però lo facciamo al meglio con una vittoria e questo è quanto